a videotop è il momento magia con noi alex pettinaroli ciao paolo bentrovati amici di videotop benvenuto mago la scatola magica è pronta cosa ci proponi questa settimana vorrei farti un test sul sul poker giochi a poker diciamo così così però facciamo quelli vissuti allora d'altra parte il nostro mazzo è sempre da poker 52 carte cuore fiori quadripic le carte più importanti nel poker quali sono dai questa è una domanda semplice gli a gioca spesso a poker del resto va bene a parte gli scherzi è un test molto semplice per verificare la tua attitudine in questo gioco mescolato tagliato il mazzo devi fare una cosa semplicissima taglialo più o meno a metà benissimo adesso taglia ancora a metà questo mazzetto ed infine questa ancora metà cosa interessante i tagli sono stati completamente casuali ora paolo io prenderò la prima carta in cima ad ogni mazzetto queste quattro carte sono stabili sono state stabilite dal caso per te il test funziona in questo modo se come prima carta trovi un asso sei un discreto giocatore se come seconda carta trovi un secondo asso sei un buon giocatore terza carta terzo asso ottimo giocatore quarta carta paolo sei un baro bravo i quattro assi straordinario bravo paolo grande alla prossima settimana ciao